Matteo Berrettini approda per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale degli Australian Open, primo slam della stagione. Il 25enne romano ha superato in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-4 lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 21 ATP e diciannovesima testa di serie. Ad aspettare Matteo Berrettini ai quarti domani il francese Gaël Monfils, numero 20 del mondo.